Dopo lo stop del ramo edile della FIP industriale, il Tribunale di Padova ha sancito il fallimento di coge Mantovani. Si chiude una lunga storia imprenditoriale iniziata in Veneto da Romeo Chiarotto, che rilevò qualche decina di anni fa la Mantovani, fondata a Bologna dall'omonimo ingegnere. In Veneto l'impresa si specializzò in infrastrutture. Dei 116 dipendenti, oggi ne ha solo 21 che non ricevono lo stipendio da dicembre 2018. Che oggi si vedono appesi al filo di un fallimento e in attesa delle decisioni che prenderà il curatore fallimentare. Troppo comodo dare tutte le responsabilità alla crisi economica del 2008, ammonisce il segretario della Fillea. I curriculum dei protagonisti del fallimento erano noti, dice, anche ai non addetti ai lavori. Pare incredibile che fossero ignorati dai protagonisti della scena economica regionale e nazionale. E così perdiamo un patrimonio che dovrebbe essere considerato della comunità tutta, un bene comune.